Torna la vittoria la Newmater Castellana, vince e convince la pallavolo Molfetta, perde male in casa la Coserplast Matera. Pieno di punti per le pugliesi, brutto stop interno per la squadra lucana. E questa è la fotografia delle nostre realtà di volley nei campionati di A1 e di A2 nel weekend appena trascorso. Nella massima serie, importante successo per la Newmater Castellana di coach Gulinelli, che al Palagrotte nel secondo match interno di fila ha superato 3-2 in Latina, terza forza del campionato, con parziali di 26-24, 25-23, 22-25, 20-25, 15-8. Una vittoria scaccia crisi per i baresi contro la rivelazione del torneo, che però devono mordersi le mani per non aver saputo chiudere il match in vantaggio di 2-0, vinto con qualche affanno solo al tie-break dopo la rimonta degli avversari. Il 3-2 finale infatti regala alla Newmater solo due punti, anziché tre, sufficienti comunque per abbandonare quota 4 e vedere il futuro con più ottimismo. Prossimo avversario per la Newmater Castellana, il fanalino di Coda Ravenna. In A2 squillante successo per la pallavolo Molfetta, nelle immagini che stiamo vedendo, che nell'anticipo ha battuto 3-0 in trasferta la cona da Reggio Emilia, con parziali di 27-29, 18-25, 21-25. Grande prestazione da parte dei ragazzi di coach Cicchello, che con i tre punti conquistati salgono a quota 18 al quarto posto. E domenica faccia a faccia contro la capolista Città di Castello, in un match casalingo da tutto esaurito. Sempre in A2 brutta sconfitta per la Coser Plast Matera, che al Palasassi si è fatta superare con un secco 3-0 dal Corigliano. Per il sestetto Lucano è la quinta sconfitta su 8, incassata senza realizzare nemmeno un set. Domenica prossima per la Coser Plast Matera il calendario prevede un turno di riposo, quel che ci voleva forse per ricaricare le batterie in vista del rush finale del girone di andata.